Buongiorno dolcezze, allora oggi sono iper galvanizzata perché questo è il primo video che vi registro dalla casetta nuova, sono troppo felice Allora, come primo video, ovviamente un video acquisti perché ho resistito al Black Friday, non ho comprato nulla al Black Friday se non vestiti perché vabbè comunque sono una donna Insomma, diciamo che gli spendo anche lì i soldi, però ho resistito alle offerte dei vari siti e non ho acquistato materiale creativo Ma avevo già precedentemente fatto un ordine su AB Perline perché mi servivano alcune cosine per delle commissioni Poi ho approfittato di prendere ovviamente anche altre cose, ma soprattutto avevo necessità barra curiosità barra vabbè proviamo a prenderlo E' un po' di questa cosa qui che vi faccio vedere subito, ovvero di questa tavolettina qua che sarà conosciutissima dalle perlinatrici Perché penso sia veramente la cosa che forse usano di più le perlinatrici, magari per perlinare in giro sul divano Insomma, perché è una tavoletta con dentro dei tappetini morbidi Che si apre appunto in due, come potete vedere qua E potete diciamo lasciare i vostri lavori incompiuti dentro la tavoletta, chiuderla e metterla via Allora, sicuramente è qualcosa forse di un po' più utile alle perlinatrici che a chi come me magari fa su TASH Però, perché l'ho voluta acquistare? L'ho voluta acquistare perché adesso qui In casa qui non ho un mio angolino per lasciare sempre tutto fuori e andare a lavorare quando voglia Quindi dovendo sempre tirare fuori le cose, metterle dentro, tirare fuori, mettere dentro Per evitarmi un esaurimento nervoso Perché io poi sono un sacco sprecisa Sono precisa quando organizzo le cose, però proprio mentre sto lavorando Poi lascio fuori 800 cose E dovendole mettere dentro e ritirare fuori tutte le volte mi risultava un po' un problema Ora, finché metto dentro le scatole, ok, la prendo e la rimetto dentro Però sistemare tutte le volte anche tutte le cose che ho sul mio tappetino di lavoro È veramente una scocciatura immensa E quindi ho deciso di acquistare anch'io questa Perché mi sono detta, va bene, ok, dovrò comunque sistemare come vi ho appena detto le scatole Ma perlomeno il progetto su cui sto lavorando posso chiudere e lasciare dentro Se non l'ho finito e metterlo via Allora, io l'ho già aperta ma in realtà non è che ci sia fatto tanto da vedere Perché forse si vede meglio insomma dalle immagini che vi ho fatto vedere adesso Sul retro credo siano identiche, sì Oddio, scusate che traballa tutto Allora, c'erano però tre dimensioni Io ho preso la dimensione media Cioè ce n'era una proprio più piccina che proprio mi sembrava un po' troppo sacrificata Poi c'era questa dimensione qua che aspettate se trovo, beh lo dico, quant'è? Mi sembra fosse 30 Sto guardando sulla scatola, ma mi sa che non c'è scritto 30x20, una cosa del genere No, non c'è scritto sulla scatola Va bene, insomma c'era una dimensione piccina Una circa 30x20 come ho preso io questa Oppure una addirittura ancora più grande ma mi sembrava un po' esagerata Ha queste chiusure qua Forse è al contrario Forse è al contrario E vedete, si apre In modalità valigetta Dentro c'è questo cartoncino Molto sottile, insomma Serve per prendere le misure bracciali e le collane Che comunque lo terrò perché non si sa mai E adesso non so se riesco a farvelo vedere Vedete che Attaccato alla plastica c'è un tappetino morbido appunto Come quelli su cui noi solitamente lavoriamo Però essendo attaccato alla scatola Poi una volta chiuso rimane tutto ben fermo E non si perde qua e là L'unica cosa che mi lasciava un po' per press È il fatto che noi che facciamo su Tash Usiamo la colla per fare retri Insomma ce l'abbiamo sempre fuori La colla Io spesso e volentieri sporco i tappetini con la colla Ma questo qua assolutamente non voglio sporcarlo Quindi ho pensato di Magari prendere un altro tappetino Mettercelo sopra Lavorare su quel tappetino lì Poi far scendere la roba su questo Chiudere e mettere via Perché non voglio assolutamente rischiare Di sporcare questo tappetino interno con la colla Anche perché non è sostituibile O meglio Sì magari si può in qualche modo Diciamo strappare queste Mettercelo un altro Ma ecco direi che vorrei evitare Di fare ste Ste pasciugate subito Cioè più mi dura Sano Meglio Lo so che sono un po' vicina con la telecamera Ma non riesco a Farvela vedere meglio Comunque qua L'avete vista Benissimo Vedete Eccola qua Se vi può interessare Andate a vedere sul sito di Hobby Perline Io l'ho pagata a 19 euro Mi pare questa misura Ce n'era una da 15 Una da 19,90 O 19 Non lo so E quella più grande di tutti Costava 21 E qualcosa E una ragazza mi ha detto Che comunque anche sul sito della pallina Ad esempio ci sono Con i soliti prezzi Proprio cambiava ben poco Quindi Non lo so Se vi va Andate a darci un'occhiata Invece guardiamo le altre cose Che ho acquistato Perché giustamente Quando si fa un ordine Non si possono acquistare tre cose Basta Ho acquistato un foglio di Ultra Sweet Rosa Perché è un colore che non trovo mai E che Sì forse non lo vedete tanto rosa Ma è proprio un rosa Tenuissimissimissimo E secondo me È un colore adattissimo Ai color cipria Al carne Anzi che il beige Che poi abbinato A quei colori Risulta troppo giallognolo Mentre questo Secondo me È un compromesso Perfetto Costa abbastanza Costa 5 euro Qualcosa Però sono i prezzi Che troviamo sempre In Italia Per l'Ultra Sweet Quindi costano così È inutile Il prezzo È questo E poi Ho acquistato Queste due bustine Di roba Che non ho ancora aperto Che andiamo a vedere Adesso A stieme Perline Perline E cristalli Di Swarovski Ho riacquistato Questa colorazione Che è la Burgundy Che amo tantissimo E che utilizzo Abbinato solitamente Al viola Non è un viola Acceso È un viola Tendente un po' al vino Non so È un colore bellissimo Che amo tantissimo E ho acquistato Due bustine Da 4 mm Perché sono quelle Che mi vanno via Proprio come il pane Una bustina Da 8 Che sono 10 pezzi E una da 6 Che sono 20 pezzi Quelle da 8 Non le avevo mai prese Però secondo me Sono carine Anche da usare Al posto delle gocce Come pendenti E quindi Ho preso queste Di altre gocce Swarovski No Non ho preso nulla Poi ho preso Una catena di strass Sempre sul viola Anche se Insomma Costicchia Però anche questa La stavo terminando Quindi Riacquistata Poi di cristalli Swarovski Ho acquistato Soltanto Di nuovo La mia colorazione Preferita Che è la Burgundy Delight E questa Io l'amo tantissimo Devo dire Che delle altre Colorazioni Potrei farne a meno Ma questa La Adoro La adoro La adoro Ed eccoli qua Sono l'isciatone Da 8 mm Non so se l'avevo detto Sono un po' svampita Poi 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 Ho acquistato Monachella Con chiusura Da 25x11 In acciaio E sono queste monachelle Qua Fatte un po' Lunghe In questo modo qua Eccole qua Che rimangono più lunghe Io avevo Una volta Una dimensione Ancora più grande Però secondo me Questa è L'intermedio Giusto Per avere Un orecchino Pendente Insomma Carino Secondo me Sono carine Poi sono in acciaio E io appena Vedo l'acciaio Mi cifiondo Poi Vi faccio vedere Allora Tre bustine Di perline Allora Questa colorazione Veramente Fighissima Che è una nuova Colorazione Che è la Crystal Capricornia Gold Delle Miyuki Sono quelle Con la patina Speciale Le chiamano Ed è una specie Di Rosa Lo vedete più rosa Forse voi Dalla foto Ma dal vivo È più Un rosa Aranciato Mezzo Trasparente E mezzo Con la Come si dice Col coating Mamma Con la patina Ecco E Secondo me È bellissimo Questo colore Veramente Molto bello Non so se Con la luce Vediamo se da vicino Sì forse da vicino Si apprezza di più Il colore Eccolo qua Bellissimo Bellissimo Poi di altre perline Perché non le avevo E poi Ho trovato L'argento freddo Della vita Allora Io è tantissimo Che sto cercando Un argento Freddo 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 Nel senso Un argento Così Nelle perline Mentre E non riesco E non riesco a trovarlo Non riuscivo O meglio A trovare Avevo comprato Anche l'alluminium Ma l'alluminium Sono una via di mezzo Tra un argento E un oro Che secondo me Non ha senso Chiamarle Aluminium Perché alluminium Dovrebbero essere Argentate E invece Le ho trovate Finalmente E sono queste Le crystal Alluminium E guardate Questo sì Che è un argento Freddo È meraviglioso Mi ho preso Solo una bustina Perché volevo Insomma Vederle dal vivo Perché dalla foto Mi sembravano Quello che cercavo Però sapete Che poi Insomma A volte cambiano Dalla realtà Alle foto Le cose E invece Sono proprio Come le cercavo E sono bellissime E andrò Subito a vedere Per il prossimo ordine Che spero di non fare A breve Perché se no Mi spendo tutto Però andrò subito A cercare anche Le altre dimensioni Per vedere Se ci sono In questa Colorazione Bellissima Poi ho preso Allora I ton di vetro Di bohemia Color Siam Da 4 mm Perché devo fare Una Commissione Sul rosso Bordeaux E mi sono accorta Che è di 4 mm Rosso E ho veramente Veramente poco E quindi Li ho presi Ho preso anche Le borchie Perché la ragazza Mi ha chiesto Se insomma Al posto Delle Classiche gocce Potevo mettere Delle borchie Le cercavo Color oro Ma color oro C'erano Soltanto Questa dimensione Qua Che è 8x5 Che ho preso Comunque Perché potrebbe essere Anche carina Anche se piccina E poi ho preso Questa Che è la 17x7 Che però È bronzo Sarebbe stata Secondo me Questa la dimensione Giusta In questa colorazione Però purtroppo Non c'era Però vabbè Le ho prese Perché comunque In ogni caso Si potranno Riutilizzare Tranquillamente Adesso vi faccio Vedere invece Il contenuto Di questo pacchettino Che sono tutti Filidi Su Tash Vi faccio vedere Il pacchettino Si il pacchettino Buonanotte Il regalo Giada colorata Blu Bellissime Sono appunto Delle perle Di Giada Blu Forse le vedete Un po' più tendente Al viola Ma è proprio Un bel blu Un blu mare Molto molto Bello Devo dire Veramente gradito Come omaggio E poi faccio vedere I fili che ho preso Che semplicemente Sono tre colori Ho preso Il rosso Classico Appunto Per la commissione Che devo realizzare Questo è proprio Un classico Rosso Fuoco Non l'avevo mai preso Il rosso Giobbi Perline Quindi mi curiosiva Vederlo dal vivo E devo dire Che è proprio Un classico rosso Non so se Voi lo vedete Proprio Forse lo vedete Un tono più fucsia Rispetto a quello Quello vedo io Però è un rosso Rosso Poi Ho voluto provare Il bordeaux Che è Questo Ma Devo dirvi la verità Che non mi convince Cioè è un bel colore Ma non lo trovo Proprio un bordeaux Sembra più Un Aspettate che lo apriamo Sembra più Secondo me Un rosso mattone Forse dalla Dalla telecamera Non è che si vede molto Però secondo me Ha una grande Componente Marroncina All'interno Che non mi Entusiasma Proprio Cioè Devo dire Che non lo Non lo userei Come bordeaux Lo userei più Come marrone Rossiccio Ecco Però vabbè Comunque sono Piattine bellissime Quindi sicuramente Si useranno E poi Il cordoncino Su touch color Prugna Che è un colore Che avevo già preso Che è questo Viola Meraviglioso Questo spacca Di brutto Yo yo fratello Oddio Non ci fate caso Adesso Un'esaurita E No veramente È un colore Molto molto Bello E basta Mi sa che non ho preso Altro Sì Ok quindi Questi erano tutti I miei acquistozzi Compresa la Tavoletta Vi farò sapere Come mi ci trovo E niente Vi saluto E vi mando un bacione Ciao